Bene amici, sono ufficiali grazie all'ultimissima circolare IMS prenatalizia tutti gli importi 2023 per le pensioni e trattamenti di invalidità civile parziali, totali, l'accompagnamento, l'indenità di frequenza e poi vediamo anche i nuovi importi per l'assegno e la pensione sociale. Tutto spiegato per bene dopo la sigla, attenzione perché cambiano anche i limiti di reddito ovviamente per accedere a queste prestazioni. Io sono Mr. Lullo, mi raccomando, un bel like e adesso sigla! Dunque con la circolare 135 IMS ci ha dettagliato i nuovi importi dei trattamenti 2023 per trattamenti di invalidità ovviamente anche assegno e pensione sociale. Partiamo vedendo i trattamenti di invalidità civile per invalidi civili ovviamente, parziali, totali, sordomuti eccetera. Ecco, l'importo dell'assegno 2023 sale, insomma, sale comunque a 313,91€ al mese a cui poi sapete, no, possono aggiungersi i 10€ di maggiorazione per chi non abbia altri ulteriori redditi. Per i ciechi parziali invece l'assegno è di 217,64€ per i ciechi assoluti 339,48€. Ora, la maggiorazione invece per l'incremento al milione per gli invalidi totali dai 18 anni sale a 386€ mensili che sommati ai 313,91€ di, diciamo, pensione base mensile porta l'importo totale a 700€ mese. Restano molto stringenti comunque i limiti di reddito, no, per accedere a questo incremento al milione. Parliamo di 9.000€ circa di reddito personale per il singolo e 15.000€ di reddito annuale per l'invalido coniugato. E ovviamente restano anche gli eventuali tagli al reddito di cittadinanza del nucleo se posseduto. Veniamo all'indennità di frequenza per i minori che sale a, anche qui sale, insomma sì, sale a 313,91€ poi indennità di accompagnamento. Ecco, nel 2023 l'importo passa, secondo tabelle IMSS, le vedete, da 524 a 527€ mese. Un aumento quindi praticamente di 3€ scarsi che corrispondono a una rivalutazione dello 0,5%. Io vi aggiorno appena avrò ulteriori chiarimenti e indicazioni. Passiamo adesso invece alla pensione e all'assegno sociale. Tanti di voi mi sgridano perché non ne parlo quasi mai nel dettaglio. Ecco, diciamo che l'importo base dell'assegno sociale per il 2023 sale a 503,27€ mensili, mentre per la pensione sociale parliamo di 414,76€. Questi però sono gli importi massimi ottenibili avendo un reddito praticamente pari a 0. In presenza di altri redditi ovviamente questi importi vanno progressivamente a ridursi fino ad azzerarsi. Dunque, questo è quanto. A gennaio comunque arriverà una nuova circolare con l'aggiornamento delle perequazioni che è stato fatto anche dalla manovra, ma questo aggiornamento non andrà a toccare questo 7,3% dedicato agli invalidi. In attesa comunque di ulteriori chiarimenti, questi sono gli importi degli assegni. I pagamenti da gennaio, sapete, cioè i pagamenti a gennaio arrivano il 3 di gennaio, poi scaglionati, vedremo per bene il calendario. Se avete dubbi particolari vi aspetto nei commenti. Spero che abbiate passato delle buone e serene feste. Vi abbraccio, alla prossima, un saluto da Mr. Lull.